Dal 1990 a partire da 3.15 ne abbiamo fatta di strada, abbiamo anche incontrato il grande tornatore che è tornato sul grande schermo con, si dice, un'opera che farà molto discutere. Sì, corrispondenze, sì 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 sì, ho seguito anche io la vicenda e ho avuto il piacere e l'onore di poter anche lavorare con lui che è stato anche un gran bel lavoro, baria, mi ha fatto anche vedere il lato della pellicola visto sotto la parte di tornatore che lui dipinge ogni scena, ogni singola scena, quindi il tempo diventa un eufemismo, è una cosa meravigliosa. Dal cabaret al teatro il passo è stato abbastanza breve, dalle risate poi invece alla formazione dell'artista a 360 gradi abbiamo studiato molto. Sì, devo dire che però comunque tutto serve nella vita perché aver fatto dieci anni di cabaret o quantomeno situation comedy con i compagni di viaggio di 3 e un quarto e grazie alla formazione anche di Pippo Spicuzza che ha fatto 13 anni di Radio Rai e tutto quanto c'è stato un momento di stacco e di andare al teatro stabile di Catania, quindi lavorare con Turi Ferro, con Tuccio Musumeci, con i grandi, con Pattavina, con Anna Malvica, con Romano Bernardi tutte persone che mi hanno formato anche via più sotto l'aspetto teatrale. Alla fine ho shakerato le due cose, le due entità ed è uscito fuori una specie di teatro trasversale, teatro comico dove si ride così tanto quanto quasi come un cabaret però ci si riflette perché c'è un percorso narrativo, una storia. Se dovessimo creare un parallelismo, che cosa ti ha dato e che cosa ti ha tolto rispettivamente in questi 26 anni il palcoscenico e la Sicilia? Tolto nulla, è sempre un acquisire e se tu sai ben assorbire quello che c'è attorno a te è tutto solamente che ti può tornare utile come farina del tuo sacco poter leggere un libro poi non diventa più il libro solamente di quell'autore ma diventa anche il tuo libro e così è la storia, la vita, il giorno, il quotidiano. Io parlo molto del quotidiano e poi piace anche la musicalità perché come vedete qui accanto a me ho un maestro musicista, compositore che è sempre in scena con me dal 2004 fino ad oggi per parlare sempre e sottolineare e far vivere, quindi dare anche un tempo, un tempo musicale a tutto quello che viene detto. Qual è la battuta siciliana che funziona di più al nord? Assolutamente non è una parolaccia, quello che funziona è solamente la cadenza perché qualunque parola volessi dire ha una sua cadenza, per esempio anche per dire guardate che è brutto appena dico vedete che è brutto, può diventare anche un tormentone, lo è diventato anche questa stessa parola. Un saluto particolare per i telespettatori di Canale 10. Non vedo l'ora che riusciate a scavalcare quel vetro che si frappone fra me e voi e provare a venire qua, con la fantasia ce la potete fare. Io dico sempre che qualunque cosa, voi siete lì in una situazione di passività potete solamente pigiare un bottone, ma qua dentro il teatro dal vivo, lo spettacolo dal vivo è tutta un'altra cosa. Quanto è difficile per un compositore lavorare con un attore comico? Ma io dico che è facilissimo, poi Sergio è veramente una persona straordinaria e quindi un viaggio che dura da anni, speriamo duri almeno altri questi, è veramente magnifico. Ogni volta creare delle musiche per gli spettacoli è una sfida nuova. Vi è mai capitato di litigare su alcuni motivi? Noi litighiamo sempre. No, no, mai, mai, mai. Cioè tutto quello che scrivi va bene a lui? No, sai cos'è che a volte nasce, io scrivo, poi arriverà il momento che ci dobbiamo incontrare e io faccio vedere tutto questo che ho scritto e lui lì deve andare a trovare una musicalità e me la propone. Io quello che lui mi ha proposto, alcune cose possono andare bene, alcune magari neanche le avevo immaginate così belle perché poi escono fuori ancora più belle e allora può esserci solamente il guizzo, ci può essere, insomma, giochiamo a fare l'onda. Quindi un'alchimia da dieci e lode. Questo lo dovrò dire allora. Di voi però. Noi siamo felini, per noi c'è ciò più bello. Noi siamo felini, per noi siamo felini.